Mi chiamo Marina Giovino, sono argentina e abito in Italia da 23 anni. Uno faceva lo che poteva fare con i denti, dopo piano piano con gli anni si hanno rovinato. Piorea, malefatti, lavori e portato la protesi mobile sopra e sotto per 12 anni più o meno. Cercando per internet lui perché che ha cominciato ha sido mio marido. Ha cominciato a guardare e ha visto che c'era questo medico sardo che aveva una clinica in Moldava. Allora lui si è messo in contatto con la clinica e ha iniziato lui prima le cura, prima di me, dopo io. Voglio dire bene, perché io sono paurosa del dentista, quindi io non mi aspettavo a trovarmi bene. Io sono satisfatta del lavoro che hanno fatto, veramente. E ho cominciato a mangiare meglio. Per me è una cosa nuova, impossibile farlo in Argentina, neanche in Italia lo puoi fare. Io lo consiglierei a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.